Da quando è nato questo canale abbiamo affrontato l'argomento virus, malware e minacce varie praticamente in tutte le salse. Abbiamo sempre cercato delle soluzioni che sono andate dall'applicazione di singoli strumenti fino all'utilizzo di soluzioni combinate come ad esempio l'associazione tra Malwarebytes e Windows Defender oppure tra SuperAntiSpyware e Windows Defender stesso. Il problema è che non abbiamo mai trovato una soluzione definitiva a tutti quanti questi problemi e quella che voglio presentarti oggi non ha la pretesa di essere esattamente una soluzione definitiva ma sicuramente è un qualcosa che ci si avvicina davvero ma davvero tanto. A questo punto sarebbe lecito chiedersi come mai non ti abbia presentato prima questo strumento davvero preziosissimo. Ebbene il motivo è uno ed uno solo, semplicemente il fatto che non lo conoscevo nemmeno io. Ho scoperto la sua esistenza grazie ad un forum di tecnici del settore che me lo hanno presentato, me lo hanno illustrato e dopo averlo provato ne sono rimasto davvero soddisfatto e allora ho deciso di presentarlo anche a te e quindi se ti senti pronto iniziamo. Milleuna volta nell'ambito della community mi è stato chiesto sotto diverse forme quale sia la strategia più corretta per evitare di prendere virus e malware. Inevitabilmente la mia risposta è stata qualcosa di molto simile a questo. Ma che devo fare? Dei stare muto, basso profilo, chiappe strette e sperare in Dio. No, a parte gli scherzi, qualche presidio ce lo abbiamo. È di indubbia efficacia, infatti nell'ambito della community non si sono mai verificati disastri scaramanticamente. Incrocio le dita mentre lo dico ma soprattutto ti consiglio di continuare a metterlo in atto. Quello che tuttavia ci è mancato è stata magari una forma di polizza assicurativa nei confronti dei ransomware, dei virus file-less e delle minacce targettizzate, ovvero delle minacce mirate. Ebbene, quella che ti sto per proporre è una soluzione che va sicuramente affiancata alle precedenti. Non si tratta di un antivirus, non si tratta di un anti-malware, ma di un qualcosa di decisamente più sofisticato e praticamente mai visto prima, anche se devo dire che questo programma esiste già da qualche anno. Ma zitto zitto e in sordina, chissà perché. Per andare a procurarci il programma che ci servirà, come sempre dovremo aprire il nostro browser, ma insieme al nostro browser questa volta vorrei aprire una piccola parentesi. Probabilmente andando sul sito della community ti sarà capitato di imbatterti in un messaggio come questo. Significa che abbiamo superato la quantità di dati che il provider ci mette a disposizione sulla base dell'abbonamento che stiamo pagando. E' un bel scassamento, Paul. Sì, non lo nego, è una rottura di scatole, ma questo canale in fondo, come ben sai, si sostiene per mezzo dei super grazie, degli abbonamenti e di un'integrazione che faccio io di tasca mia. Naturalmente è una cosa che faccio volentierissimo, ma diciamo che il mio portafogli ha un amperaggio limitato e quindi non possiamo al momento permetterci più di tanto. Naturalmente questo non è un battere cassa in alcun modo, ma semplicemente un volerti chiedere un pochino di pazienza. Quando si è al di fuori di questo ambiente non ci si rende conto, così come non me ne rendevo conto io, che ci sono delle spese che vanno oltre all'acquisto dei software, dell'hardware e delle luci, come ad esempio il dover pagare un commercialista oppure appunto dover pagare un abbonamento ad un provider se si vuole mettere su un sito che funzioni. Come ben sai questo canale non accetta nessuna forma di sponsorizzazione, tutti i programmi, compreso quello che vedremo oggi, sono gratuiti e quindi dobbiamo avere un pochino di pazienza nel momento in cui ci dovesse comparire un messaggio come quello e riprovare semplicemente dopo qualche minuto. Ma torniamo a noi. Per scaricare il software che ci servirà quest'oggi ci basterà aprire come sempre il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento come sempre al primo dominio sperando che si apra, ovvero quello relativo al sito www.gentiluomodigitale.it ci è andata bene. Una volta che il sito si è aperto ci basta andare qui in alto nella sezione Downloads e nella pagina che si apre scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download, quello che si chiama Noishield Data Sentinel. Nel caso in cui invece tu sia un distinto gentiluomo abbonato il video potrai vederlo in anteprima ma probabilmente il file non sarà ancora disponibile perché esce in concomitanza con la pubblicazione del video stesso. In questo caso ti suggerisco di utilizzare qui in alto la lente di ricerca e digitare appunto lo stesso nome quindi Noishield Data Sentinel. Clicchiamo a questo punto sul pulsante File Download ed attendiamo alcuni secondi che il file venga scaricato sul nostro pc. Eccolo qui. A questo punto quello che possiamo fare è un clic per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo quindi chiudere la finestra del browser retrostante. A questo punto facciamo doppio clic sull'unico file presente all'interno della cartella compressa cioè quello che si chiama nds.exe e clicchiamo per accettare i termini e le condizioni di licenza. Clicchiamo quindi sul pulsante Install ed accettiamo premendo il pulsante Sì che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Clicchiamo sul pulsante Next, lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo nuovamente sul pulsante Next e quindi sul pulsante Install. Vedrai che partirà la procedura di installazione che terminerà appunto con l'installazione del nostro software. A questo punto possiamo chiudere la cartella compressa che non ci serve più e cliccare sul pulsante Finish. Fatto questo ci verrà mostrata una finestra che ci informa dell'avvenuta installazione del programma che potremo chiudere tramite il pulsante Close. Una volta chiuso troveremo il nostro programma in basso a destra sotto questa frecciolina rappresentato da questa icona. Facciamo un clic per andare ad aprirlo e ci troveremo immediatamente nella finestra principale del nostro Data Sentinel dove in una maniera forse un pochino scenografica veniamo avvisati del fatto che Data Sentinel effettua una protezione costante dei nostri file in tempo reale come vedremo proteggendoli da qualunque attacco esterno e da qualunque manomissione. Ti ribadisco che Data Sentinel è un software che va ad affiancarsi al tuo sistema antivirus perché come vedremo fa anche delle cose decisamente differenti. Infatti se ci spostiamo nel menu a sinistra sulla seconda voce quella che si chiama anti ransomware vediamo che automaticamente questo software va a controllare tutte le cartelle principali di sistema che contengono proprio i nostri dati e quindi la cartella documenti, desktop, immagini e così via. Grazie al pulsante add in basso a destra inoltre avremo la possibilità di aggiungere eventuali altre cartelle presenti sul nostro computer per aggiungerle a questo tipo di controllo. Infatti come puoi vedere ho preso la mia famosissima cartella ok e l'ho aggiunta al novero delle cartelle da proteggere anche se a dirla tutta si trovava sul desktop che è automaticamente già protetto. Ma siccome un esempio vale più di mille parole come puoi vedere sul lato sinistro del mio desktop ho posizionato due file uno che ho chiamato file importante punto txt e il secondo che invece è un immagine fondamentale punto jpeg. Nel momento in cui andiamo ad aprire questi file naturalmente questi si aprono regolarmente. In questo in particolar modo sono andato ad inserire tutte le differenze tra la versione a pagamento e la versione gratuita di questo programma. Ma cosa succederebbe se un ransomware dovesse attaccare i nostri file? Vediamolo subito. Come puoi vedere ho provveduto a crittografare entrambi i file che in questo momento risultano assolutamente non essere apribili. Quello che posso fare grazie a questo programma è portarmi in corrispondenza della cartella che è stata attaccata. Naturalmente lo potrò fare anche per tutte quante le cartelle e cliccare sul pulsante revert. Ci viene chiesto di quanto tempo vogliamo tornare indietro per ripristinare la situazione dei nostri file. Purtroppo nella versione gratuita potremo tornare indietro solamente fino a quattro ore al massimo. In questo caso sono intercorsi solo pochi minuti quindi scelgo 15 minuti e clicco sul pulsante revert. Ci viene chiesto di accettare che vengano apportate da questo programma modifiche al nostro dispositivo cosa che confermiamo cliccando su sì e come vedi in pochi secondi i nostri file vengono ripristinati. Unica piccola differenza che noto in questo momento il mio file di testo è stato spostato qui in alto. E già questa prima funzione è decisamente molto interessante e non è presente in circa il 90% degli antivirus ma non basta. Se infatti nel menu a sinistra ci sposteremo sulla terza voce quella che si chiama antiwiperware noteremo che al suo interno ci sono due opzioni che ti consiglio vivamente di tenere costantemente attivate. La prima infatti è un'opzione che impedisce ai malware di effettuare l'accesso a basso livello ai nostri hard disk in modo tale che non possano crittografare o corrompere i nostri dati. Mentre la seconda è una classica protezione del settore di avvio che impedisce ai malware di avviarsi insieme al nostro sistema operativo. Altrettanto interessante è la quarta voce quella che si chiama mirror shielding. È sempre attiva di default con questo programma e ci protegge da ben tre tipi differenti di minacce. In particolar modo dai malware filess di cui abbiamo parlato tempo fa e che se ti fossi perso il video ti lascio linkato qui in alto. La seconda ci protegge dagli attacchi targettizzati e dalle minacce permanenti mentre la terza protegge i nostri dati da tutti quanti gli attacchi zero day che possono cercare di corromperli. L'ultima voce ovvero il noise shield explorer invece è molto semplice. Aprendolo ci troveremo all'interno di una cartella che racchiude tutte quante le cartelle che sono protette da noise shield stesso. Come vedi si tratta di uno strumento preziosissimo ma anche abbastanza diverso rispetto agli antivirus tradizionali ad esempio per il fatto che non richiede gli aggiornamenti periodici. Il mio consiglio è quello di abbinarlo alla tua protezione standard composta ad esempio come spesso consiglio da Microsoft Defender per quanto riguarda la protezione in tempo reale e Malwarebytes anti malware oppure super anti spyware per le scansioni on demand. In questo caso oltre ad una robustissima protezione del tuo computer disporrai anche di una ottima polizza assicurativa per la salute dei tuoi file. E' la mandragana! Di questo passo diventeremo tutti quanti dei piccoli mandrache del computer ma attenzione devo dare il benvenuto a bordo a Diego Galli ed Alberto Bossi perché si sono appena abbonati al nostro canale entrando con pieno diritto a far parte della community dei gentiluomini ed un altro ringraziamento importantissimo va a Giorgio Brusasco per il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente non solo per la tua donazione che come abbiamo appena visto fa molto comodo a questo canale ma per il tuo costante supporto e la tua vicinanza a questa community. Ma un ulteriore ringraziamento è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!